Ragazzi, vado a scuola! Attenzione! Occhio al cartelletto! Un'emozione di una partita così! Un'emozione unica, un privilegio, un onore poter fare parte di questa organizzazione, di questo grande evento, soprattutto perché dietro di questa partita c'è un messaggio molto forte che vuole dare al nostro Papa, che è la pace nel mondo e soprattutto in questi tempi abbiamo bisogno tutti. Lo stesso in spagnolo, per favore, lo stesso in spagnolo? Che per me è un onore, e la verità che sto orgulloso per poter organizzare questo evento perché non è il partito in si lo che importa ma lo che c'è dietro di questo messaggio che il nostro Papa vuole dare, che è la pace nel mondo. Mi ha dato molta responsabilità il Papa dandovi questo compito di questa partita interreligiosa per la pace. E' una bellissima responsabilità, perché credo che attraverso non soltanto del calcio, se possono fare tante cose in positivo e questo è un esempio, speriamo che sia il punto di partenza per altre iniziative che possano dare un messaggio a cose importanti. di nuovo in spagnolo, per favore, siamo la metà del spagnolo. Che la verità che è una molto linda responsabilità poter formare parte di questa organizzazione di questo tipo di partiti e speriamo che sia il punto iniziale per molti eventi di più che dare il stesso messaggio. Ci sono anni che ti spendi con la tua fondazione, con la tua moglie per chi è più sfortunato. Questo forse è il culmine di questo lavoro che hai fatto? Direi che abbiamo cresciuto tantissimo in tutti questi anni con la mia fondazione e questa credo che è una delle cose più belle che ci tocca vivere perché essere a fianco al nostro Papa e poter organizzare questo evento dove, ripeto, la cosa più importante è il messaggio che lui vuole dare al mondo soprattutto in questo momento, in questo periodo, è molto toccante, molto importante e speriamo che tanta gente lo possa capire. Un messaggio di pace per il Papa Francesco? Un tuo messaggio di pace per il Papa Francesco? Io credo che il Papa ha un cuore enorme, è una persona semplicissima e grande tifoso, però soprattutto è una persona che trasmette tanto amore e credo che attraverso questa partita vuole trasmettere. Grazie. Non, non, tutti gli giocatori che chassero parte, gli che non possono, mi hanno chassero saluto e la verità che mi rende molto contento perché anche credo che forma parte di tutto quello che vogliamo, che è il messaggio. Sì, 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 tanti campioni e speriamo che ci sia tantissima gente perché credo che sarà un momento per essere tutti uniti e da qui poter ripartire per un mondo migliore. Grazie, grazie. Grazie.